Presidente Luciano Di Marzio, oggi l'Assemblea Ordinaria della Confartigianato Imprese Teramo, tra i vari argomenti posti all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2010. Sì, sono molto soddisfatto perché anche quest'anno chiudiamo con un attivo di bilancio, quindi la nostra attività, anche in un momento così difficile, riusciamo a portare avanti tutto quello che si prefigge alla nostra organizzazione. Quest'anno è stato un anno molto impegnativo, abbiamo realizzato tante iniziative nei confronti dei soci, a iniziare dalla nostra formazione perché noi abbiamo costituito una società di formazione riconosciuta dalla Regione Abruzzo e stiamo svolgendo tantissimi corsi con molti interessi da parte di tutti i partecipanti. L'ultimo è stato per quanto riguarda le estetiste e su questo argomento noi abbiamo colto l'occasione per evidenziare un problema che sta in crescita che è quello del lavoro nero per quanto riguarda queste estetiste. Noi abbiamo anche realizzato uno spot che stiamo mandando in onda per capire l'importanza della professionalità specialmente in questo settore come in tutti i settori perché è chiaro che questo dell'estetica è stata una prima occasione però ci sono molti settori che hanno bisogno di professionalità e quindi la nostra organizzazione è molto attenta perché questo lavoro nero non riusciamo, anche il governo dice sempre di eliminare il lavoro nero però poi i risultati non ci sono perché noi facciamo tante denunce, ne abbiamo fatte tante in passato anche al prefetto, al Ministero del Lavoro però stranamente vengono avvisati e quindi non vengono mai colti sul posto e quindi questo lo dico con grande preoccupazione perché vuol dire che non si vuole eliminare questo lavoro nero e quindi noi, io più volte sono intervenuto quando si evidenzia anche sulla stampa da parte di altre organizzazioni sindacali e lavoratori dipendenti del lavoro nero che esiste nell'edilizia è chiaro che noi sicuramente non dipendiamo chi non è in regola però ho detto più volte che per combattere il lavoro nero anche loro devono partecipare perché spesso sono quelli che hanno un posto già fisso che nel loro tempo che ne hanno tanto a disposizione svolgono un altro lavoro e quindi vengono a danneggiare le nostre imprese che regolarmente pagano tutto quello che c'è da pagare e quindi c'è una concorrenza sleare Presidente tra le varie iniziative quest'anno anche la prima mostra mercato dell'artigianato Sì, questo fa parte di un nostro progetto che vogliamo riportare l'artigianato artistico tradizionale nel centro storico e questa è stata una prima occasione che abbiamo avuto da parte del Comune di Teramo e quindi abbiamo visto che portare i veri artigiani nel centro storico crea molta attenzione da parte di tutti e quindi abbiamo avuto una grande partecipazione, è chiaro che ripeteremo questo evento nel corso dell'anno e nello stesso tempo tra le altre cose abbiamo visto anche che c'è un'attenzione da parte del Sindaco per quanto riguarda quello che noi da tempo proponiamo il borgo artigiano il borgo artigiano sarebbe, noi abbiamo una città bellissima, questi hanno tanti locali abbandonati recuperare quei locali e farli utilizzare da questi artigiani che svolgeranno il loro lavoro come abbiamo fatto fare nella mostra, molti hanno lavorato negli stand che c'erano e quindi questo crea tanta attenzione da parte delle persone ma anche un richiamo turistico per la città e quindi ne beneficeranno tutti quindi mi fa piacere anche che quest'anno siamo riusciti a concretizzare anche la bottega a scuola perché abbiamo visto che dei ragazzi sono stati assunti dalla cosa che non avveniva nel passato perché qualcuno di questa legge ne approfittava io più volte sono intervenuto in commissione regionale per far capire che dobbiamo premiare chi tiene il ragazzo per tre anni e poi lo assume quindi oppure poi lo porta ad iniziare un'altra attività che noi, questo è uno degli obiettivi della bottega a scuola quello di far imparare il mescere al ragazzo e poi o può scegliere o seguitare a lavorare nell'azienda che lo ha preparato oppure iniziare un'attività in propria quindi questo speriamo che la regione voglia capire perché è un grande volano per l'occupazione e quindi i ragazzi vengono facilitati nell'inserimento dell'impresa e quindi poi con i risultati che abbiamo visto